Non facili illusioni di quelle che spaccia, tanto per capirci, una certa politica che ha smarrito la sua vera identità, ma realismo e speranza non le manda a dire il Vescovo Giudice in un passaggio del suo intervento in merito ad una possibile visita del Papa. Se accadrà, sarà una gioia per la nostra terra, tuttavia non bisogna usare l'accanimento, così, sull'invito rivolto proprio da lui al Pontifice. Il Vescovo della Diocesi di Nocera, Inferiore Sarno, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Giudice, da buon padre di famiglia, sollecita la speranza, ma allontana fallaci illusioni che non fanno parte del suo essere né del suo agire. L'invito, dice il pastore, è gratuità. Nell'altro, nel destinatario, c'è la libertà di rispondere. Anche questo fronte di riflessione, dunque, si presta ad un monito forte. A buon intenditor? E non dobbiamo illudere nessuno, l'invito è stato fatto. Ma non è stato fatto solo quella sera, io già l'avevo fatto anche per iscritto. Però queste cose, come pastore prudente, noi non dobbiamo illudere né dobbiamo parlare per fare numeri. Io lo spero. Ma se dovessi dire stamattina, viene o non viene, ho sentito pure qualche giorno, raccogliamo le firme, il Papa non viene così. Non è questo il modo. L'importante è che chi guida una chiesa ha invitato il Sadopanto. Poi noi aspettiamo. Se avverrà, sarà una grande, diciamo, una sorpresa bellissima, una gioia per questa nostra terra. Però anche qui non c'è accanimento. Io in questi anni, su dieci anni, penso che quattro o cinque volte ho detto direttamente al Santo Padre, ho presentato l'invito. In una forma, in un'altra forma, l'ultima, quella pubblica, tramite il Cardinale Parolini. Però lei capisce che ho anzi invito a una persona. L'invito è una gratuità. Poi c'è la libertà dell'altro di rispondere. L'importante è che da parte nostra non perdiamo la speranza, ma nemmeno vogliamo illudere nessuno. Io dico sempre che io non faccio come certa politica che illude e prende in giro. Io sono realistico. Io sono realistico.